buonasera oggi sono qui a roma all'oratore del gonfalone per tenere un concerto per voi il programma che va dal barocco al romantico è composto dal concerto italiano di Bach da varum di schumann dai pezzi fantastici opera 12 e della sonata opera 31 numero 3 di vetroven buon ascolto 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.